Siamo alla tredicesima giornata di campionato di seconda categoria giorni B. L'Atletico Pomarico sfida fuori casa la Dinamo Vigiano. Il mister Cetera, come le ultime partite, si trova a dover rinventare ruoli per sopperire ai molteplici infortuni del Pomarico. Il Pomarico disputa la sua più brutta gara da inizio campionato, dove la Dinamo Vigiano segnerà ben cinque reti solo nel primo tempo. Un Pomarico assente e svogliato, che continuerà ad esserlo anche nel secondo tempo, dove gli avversari segneranno altre 4 reti con più facilità vista anche l'espulsione di Antonio Epifania, avvenuta nella prima fazione di gara. La partita poi terminerà con il risultato di 9 reti a 0 per la Dinamo Vigiano. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.